Amici e amiche rossoneri, rossonere di Milanello, ben ritrovati sul nostro canale YouTube che dedica H24 notizie, aggiornamenti di calcio mercato, di campo, di recuperi, indiscrezioni, retroscena al mondo Milan come in questo caso con due retroscena di mercato come avete potuto constatare dalla copertina del video vi ricordo come sempre però di iscrivervi qui se non l'avete ancora fatto sulla banderina rossonera e di lasciare il like vi chiedo questo e credo che non vi costi nulla, ci conto, ve lo ricordo sempre perché siete sempre un po' troppo pochi a lasciarlo rispetto a quanti tantissimi vedete il video allora in questo caso abbiamo un doppio retroscena di mercato che abbiamo raccolto partiamo, uno riguarda Donnarumma, l'altro riguarda Jovic uno riguarda il rinnovo di Donnarumma che come sapete il primo febbraio, dal primo febbraio potrebbe firmare gratis per un'altra squadra dall'altra parte invece il possibile arrivo dal Real di Jovic due retroscena, partiamo da quello che riguarda Gigio partiamo da quello che riguarda Gigio, nei giorni scorsi avete visto in 50.000 addirittura il video in cui parlavamo dell'ultimo ricatto di Raiola il ricatto riguardava appunto le voci messe in giro all'arte dal procuratore che ha fatto sapere che su Donnarumma Gigio c'è l'Inter, la seconda squadra di Milano così come la chiamiamo qui su Milanello e la Juventus cosa fastidiosa, ricatto deprecabile che il giocatore comunque potrebbe magari cercare di zittire anche se lui dà voce in capitolo sul tema rinnovo soltanto al procuratore al quale dà carta bianca ma questo gli crea un po' un danno di immagine a lui un fastidio a chi ha il Milan nel cuore e alla società Milano e anche i tifosi che ne farebbero volentieri a meno ne faremo tutti volentieri a meno ecco abbiamo scoperto un retroscena che è un po' a monte rispetto a questo ricatto di Raiola che anche per via traverse fa sapere che sul rinnovo non è assolutamente fatto anzi e che non è neanche addirittura d'arrivo mentre dal Milan invece vi abbiamo segnalato ultimamente parecchio ottimismo ebbene quello che abbiamo scoperto che è quello che ha fatto arrabbiare Mino Raiola il suo entourage è che il Milan ha fatto sapere a lui che non intende rinnovare il contratto di Antonio Donnarumma il fratello di Raiola il fratello scusate di Gigio anche lui è assistito da Mino Raiola che prende un milione di euro a stagione il cui contratto come quello del fratello scade a giugno Mino voleva il rinnovo di entrambi lo poneva come condizione fondamentale per andare avanti insieme il Milan dice no noi ringraziamo Antonio che è stato importante per il fratello per la crescita ma adesso il fratello è grande e vaccinato può andare avanti da solo e dunque abbiamo fatto scelte diverse e non vogliamo rinnovare il contratto cosa che ha fatto arrabbiare Mino Raiola che adesso a sua volta replica con questi mezzucci un po' deprecabili riportando la trattativa a livello anche un po' mediatico se vogliamo cosa che lui invece aveva detto non voglio che sia una trattativa mediatica in realtà con lui purtroppo di mezzo è sempre questo tipo di trattativa e quindi c'è questo fastidio da parte di Mino Raiola che evidentemente riteneva di fare ancora una volta l'accoppiata magari ancora un milione di euro a stagione il Binla non è per la quale e quindi siamo di fronte a delle schermaglie aspettiamoci magari anche dell'altro conoscendo il personaggio che non accetta di veder rinnovato il contratto di un giocatore e non dell'altro e ricattava al Milan anche su quel fronte rinnova a Antonio altrimenti non ti confermo Gigio però al Milan forte della volontà di Gigio di rimanere al Milan con e senza il fratello non cade di fronte a questi tranelli è forte della sua posizione ritiene che alla fine il giocatore rinnoverà ed è anche disposto ad arrivare a gennaio barra febbraio inoltrati quando il procuratore potrebbe proporlo ad altre squadre magari già lo ha fatto e farlo firmare gratis per un'altra squadra ma Gigio per un'altra squadra non vuole firmare e quindi il Milan lo sa aspetta è una battaglia di nervi una partita a scacchi ma il Milan è convinto di vincerla perché ha un alleato in Gigio Donnarumma e alla fine come è successo qualche anno fa Minoraio la dovrà farsi una ragione e di questi mezzucci ci sarà soltanto un ricordo quindi stiamo calmi stiamo tranquilli magari ne usciranno di altre ma siamo convinti qui che Gigio rinnoverà il suo contratto e firmerà il contratto con il Milan e non con altri club capitolo Jovic avete visto nella copertina il Milan qui lo diciamo da diverso tempo lo vuole ci pensa per il prestito prestito un po' alla Brian Diaz cioè i 6 mesi e poi si vedrà o addirittura 18 mesi in quel caso si potrebbe discutere dell'obbligo di riscatto visto che lui è bilancio a tanti milioni ebbene il Milan ne ha parato con il Real Madrid su questo lo sappiamo attraverso il suo procuratore fa i ramadani è stato incontrato è stato ricevuto dalla dirigenza Milan 7-8 giorni fa a Milano ma sono proseguiti i contatti come vi raccontavamo anche nei giorni scorsi ebbene da quello che abbiamo raccolto fonte spagnola il Real è disposto a fare partire Jovic ma in questo momento è restio a darlo al Milan il giocatore probabilmente andrà via in prestito anche perché nel Real ha fatto poco o nulla e perché nessuno arriva offrendo tanti soldi quanto lui ha bilancio oggi tantissimi milioni di euro decine e decine lo fa partire in prestito ma vuole qualcuno che lo valorizzi ora ha sott'occhio la vicenda Brian Diaz che ha fatto 4 gol con il Milan qualche partita l'ha fatta ma il Real Madrid ritengono che avendo davanti Ibrahimovic e giocando il Milan con soltanto una punta Jovic non verrebbe valorizzato non verrebbe impiegato sarebbe affittato 6 mesi per poi tornare e trovarsi poi da punto a capo questa è la loro idea tant'è che il giocatore ha altre possibilità e ha altre offerte con la formula del press il giocatore al Milan ci vorrebbe più che volentieri per il procuratore il Milan è la prima scelta per il giocatore anche pur consapevole che dovrebbe rimbocarsi le maniche per trovare uno spazio ma troverebbe Rebic con cui aveva fatto molto bene nella stagione in Muldesliga all'Eintracht dall'altra parte il Real preme per altre soluzioni in cui il giocatore potrebbe giocare di più questa è la situazione a oggi ma sappiamo che poi ci sono ottimi rapporti con il Real Madrid tra Maldini e Real Madrid e chissà mai che poi possa esserci un'opera di convincimento non è l'unica però l'unico dossier l'unico fascicolo sulla scrivania di Maldini e Sochi ce ne sono altri sicuramente quello meno dispendioso e il Milan per l'attacco non vuole spendere vuole avere un'opportunità tradotto costo zero o quasi zero seguiamo con attenzione quello che succede su Jovic il mercato come dico sempre è un continuo di venire quello che oggi è bianco domani è nero poi torna grigio poi bianco e poi nero bisogna trovare il momento giusto e il Milan ritiene comunque che qualche possibilità su Jovic ci sia ancora vi ricordo di scrivervi qui ragazzi in chiusura di video se non avete ancora fatto aggiornamenti più aggiornamenti ogni giorno dirette ogni giorno dove trovate un altro canale che fa tutto questo per voi da nessuna parte quindi scrivetevi qui e vi chiedo questo lasciate il like qui sotto ci conto poi vado a controllare quanti siete stati a lasciare il like un saluto un abbraccio a presto per altri aggiornamenti forza Milan sempre